ciao youtube benvenuti in questo video devo pullare peritto e ho il 50 e 50 come tutte le volte devo pullare io abbiamo tante prime genze l'obiettivo finale se proprio va bene l'arma e c2 però non penso comunque andremo così prima munitto poi l'arma assicurata anche se dovessi perdere entrambi piti e poi proviamo a fare la c2 che non so se arriverà a casa però ci proviamo e l'obiettivo sarebbe anche farci coro almeno c4 che non so se succederà nemmeno quello perché ho visto le pull di tutti e coro non esce nemmeno con le cannolate quindi staremo a vedere però va bene andiamo prima ok vabbè pt9 finché una singola pt9 va bene tutto ok e anche un'altra così arriviamo a pc 10 tondo perfetto bene da adesso inizia la prima scalata poi ci spostiamo sul banner delle armi e quindi intanto andiamo niente adesso andiamo per uscire per uscire relativamente tiriamo la prima multi ok dai gorou io gli altri ce l'ho tutte ci sei quindi mi basta gorou quanti te ne va di darmi di gorou li accetto quindi gorou tanti grazie vi sono gli dati di tutti quelli prima dagli a me a me nasci zero per te ne ho trovato uno ecco appunto iniziamo già con il mio alter ego la mia barbara il mio cosplay però no grazie oggi oggi no barbara oggi no ma iniziamo male ai ragazzi lo sapete bene come funziona quando arriva una barbara poi ne arrivano altre 45 pure shaling doppio 4 stelle ovviamente entrambi che non mi servivano andiamo ok da pt siamo arrivati a 20 arriviamo a pt 30 dai dai dateci gorou due gorou in questa multi se si può proprio esprimere i desideri fantastico però magari multi delle armi sapete bene ormai il detto della multi delle armi non è più una multi delle armi c'è anche shangling un sacco di 4 stelle inutili però un sacco quindi bene vuol dire può uscire anche gorou ok ok e basta perfetto andiamo a pt 40 ok 4 stelle adesso vediamo cosa dai 1 1 la maledizione di gorou pur di non darmi gorou ci terrei a dire pur di non darmi gorou mi danno peitu pur di non darmi gorou mi danno peitu no la ho c6 ragazzi io ho tutti c6 tranne yanfei mi manca solo la c6 di yanfei poi quattro stelle io ho tutti c6 esclusi ovviamente lisa amber e keia che purtroppo ancora c6 non ho però qualsiasi quattro stelle pg che vedete che non è yanfei perché yanfei la oc5 è comunque uno scam i 40 andiamo a pt 50 ok 4 stelle bene importante che mi diano un gorou poi sono tranquilla ok eccolo ok almeno c0 almeno c0 lo abbiamo portato a casa ora ci possiamo rilassare io vorrei fare almeno c4 per la costellazione però se proprio non me lo voglio andare almeno c0 a casa ciao appellino almeno per dire che ce l'ho anche questo bene 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 ciao megumi buon pomeriggio ok ok va bene va bene va bene un solo 4 stelle ma lo accettiamo questa multi con un solo 4 stelle è meglio delle altre pt 60 pt 60 ok ok vt 60 allora un altro gorou andiamo a c1 tempo ti penso sempre con il mio 85esimo stringless vedete sempre nei vostri cuori nei miei cuori voi che volete gli stringless ma li trovo tutti io è incredibile è incredibile come io sia praticamente abbonata allo stringless come pochi multi delle armi però però la prossima sono già pt 70 e doveva essere prima multi delle armi ragazzi va bene quindi adesso intanto andiamo a pt 70 tranquilli ok poi singole fino alla 75esima e poi tiriamo la multi ciao barbara sto sentendo male oggi ragazzi molto più del solito ok qui c'è solo barbara mi sa così vuol dire che nelle prossime no non c'è solo barbara scusami scusami che ho dubitato della sua presenza scusami ok bene no bene bene vi giuro pensavo fosse l'ultima singola quella che ho tirato prima di questo gorou invece ok c1 c1 a casa infatti era l'ultimo poi va bene grazie grazie mille grazie mille pt 71 4 stelle di nuovo gorou no scusate 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 che insomma ci ho provato a credere mi dispiace sì sì dalla 75esima faccio una bella multi esatto pt 71 va bene 71 scam 72 mi sto sentendo malissimo ok 3 stelle sono più tranquilla quando vedo i 3 stelle ultimamente ok 73 74 ok un'altra e poi c'è la multi multi la prossima è la 76 la prossima è la 76 questa stanza non c'è abbastanza aria per una sola persona sto soffatto andiamo basta andiamo ok oh gesù un patema ragazzi non c'era non c'era chi è che l'aveva bannato subito brian istantaneamente istantaneamente brian io lo voglio bannato da questo canale e non potrà più parlare istantaneamente ma poi di look sto personaggio schifoso mamma mia il peggiore di tutto il gioco mamma mia adesso mi dai anche hito vero però mi ha dato gorou si è sentito in colpa mi ha dato anche gorou grazie grazie del pensiero niente e quante sono gorou una due basta ok ripartiamo e niente andiamo a pt13 a posto allora va bene così allora va bene così a posto va benissimo ma dove sei questo era pt4 pt5 dove sei amore mio dove sei pt7 8 era l'ultima 9 ma allora va bene ritiro tutto ritiro tutto va bene se doveva essere così la cosa bastava me lo dicesse prima a meno non mi infartavo va benissimo a posto insomma va bene andiamo andiamo detto pt10 quindi pt20 tranquillo proprio chillissimo pt20 aiuto aiuto ma che cosa ho appena detto sono una sfigata in questo banner no ma tanto non è mai non è mai quando arriva pt così basso non è mai l'arma non è mai quindi tranquilli tranquilli però speriamo allora se non deve essere l'arma o vabbè l'arp lo posso anche accettare se no per favore l'amos io ho bisogno dell'amos grazie l'amos vogliamo l'amos ma che ma perché ma chi l'ha chiamata questa ci sei da una vita che cosa ok va bene va bene rosy aiuto ma c'è o non c'è sì sì oh dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio torniamo pt4 pt14 ok vorremmo dei gorou c2 adesso altri gorou altri gorou grazie qualcuno ok va bene fantastico va benissimo ok grazie grazie le volevo proprio ne avevo bisogno il mio primo personaggio c6 era tipo questo periodo dell'anno scorso uscivano solo barbara in tutti i banner che pullavo quindi grazie allora eravamo a pt4 mi ha tenato una multi quindi pt14 questa è pt24 scendiamo sotto le 20.000 prime ok il solito culo sconfilato smettila allora dai gorou no crazy no numeri non pari che cos'è quella donation che cos'è barbara intanto barbara non prendete esempio da crisi ve lo chiedo per favore per favore no non si fanno queste cose non si fanno io sono malata purtroppo per queste cose non si fanno oh ma beh barbara 34 così andiamo vabbè te cicci nel tuo mondo allora ok 2 non lo stavo chiamando vabbè facciamo finta che non esista quindi forse a non chiamarlo c3 un altro 4 stelle buono un altro 4 stelle barbara deve comparire per forza se no non è contenta back to back to back comunque 3 4 stelle di fila ma che succede con calma veramente veramente con calma quindi 34 succedono meraviglie 3 4 stelle di fila un sacco di staglitterini che teniamo da parte perfetto e andiamo tranquilli no tranquilli un tubo non abbiamo mica più il 100% adesso a pt 44 ragazzi non abbiamo più io che sto qui tranquilla tranquilla accidenti allora ok ma seriamente 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 vabbè va bene barbara e questo multi sarà solo sua immagino perché sei un idol egocentrica e quindi giustamente la multi è tua va bene ok a posto pt 54 ok dai altri 3 gorou mi servono ok grazie gorou gorou c4 grazie mille benvenuto ottimo un altro in multi magari ne mancano due adesso di gorou anche dragon's bane più avuta è come se non ci fossero domani dragon's bane dragon's bane ok basta penso questa dovrebbe essere l'ultima yes ok gorou c4 gorou c4 pt 54 oh sì pt 64 ok allora un altro gorou me ne mancano due ok mi stavo stavo un attimo chiedendo se non esisteva più quindi giustamente ha detto no è giusto farsi vedere questa è una multi shanling che è la multi rip ok pt 74 ok 4 stelle sempre e poi 2 hit in una full il punto sarebbe quello e avremmo finito ok ok va bene shinyan ok ok pg 4 stelle non in rate up che comunque siete più in rate up di gorou ok 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 questa è la 75 la prossima è la 76 ok sì 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 abbiamo vinto ok c1 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 postato a casa pt8 dammi perdiamo 50 e 50 ora così almeno poi dopo vado direttamente al pt e lo prendo allora 9 ok ma se perdevo anche il 50 e 50 ora poi ero a posto perché arrivavo al pt anche dalla settantesima, ottantesima e 10 e facevo invece no ok pt10 perfetto si va a pt10 adesso dobbiamo vincerla di nuovo ok pt10 pt20 4 stelle lo so amo lo so pt5 6 pt5 c5 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 ce ne manca uno ti prego uno in tutte le altre pool dammelo uno in tutte le altre pool facciamolo c6 c5 personaggi che non sono in rate up che non si sa perché compaia e a questo punto yamfei grazie yamfei perché yamfei ce l'ho c5 se proprio dobbiamo fishel tra l'altro ragazzi fishel che non mettano in un banner il rate up da una vita da una vita io fishel non la vedo in rate up da una vita tant'è che pensavo che nel banner ditto ci fosse però no fishel dimenticata pt20 adesso andiamo a pt30 bello il tedesco molto molto bello molto bella come lingua pt30 molto molto bella come lingua ok 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e 30 perfetto andiamo a pt40 ma un miracolo pt ora ok dai go row 1 1 ne manca va fatto c6 guarda marty guardate che l'hai chiamata ti eri preoccupata della sua assenza chissà dove è finita ma non c'è più mi sto preoccupando questo è diventato un meme del canale perché per chi non lo sapesse io fino al banner di utah non ho mai trovato una lion's roar adesso ne ho addirittura tre un'emozione grandissima a posto marty va bene go row l'abbiamo finito 3-4 stelle anche in questa multi 3-4 stelle anche in questa multi go row portato a casa go row portato a casa go row portato a casa c6 finalmente almeno questo ci togliamo un dente mi ha pt50 ok e adesso 4 stelle non ci interessa nulla 4 stelle qua tutto tutto fuffa quindi può uscire quello che vuole ora multi contro il go row eh perché raddrizzati ragazzi non siete rispettosi della mia età qui non c'è nemmeno il 4 stelle ah eccola giusto va bene a pt60 ok allora pt60 agli uso agli uso no 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 non ero pronta a questa nota però ragazzi deve essere lui abbiamo 8000 primegens quindi qualche altra multi se ne rifacciamo però dov'è paura che paura sta animazione ma poi io le rendo tutte molto leggero vero Demi le prendo bene le cose tranquilla ragazzi mi sono presa una paura quando ho visto sta animazione ho detto ma chi è ora mi sto venendo da piangere ragazzi mi sto venendo da piangere che si pika b pika jiu basta 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 Grazie a tutti